Musica Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Piersanto Gallo e Michele Parullo Salomao, Salomao serve Iozzino, Iozzino numero di Iozzino Osvaldo, prova la botta Osvaldo, tiro sporco, fermato, può partire la contropiede dall'Augusta con Sceleschi Sceleschi, il tiro di Sceleschi Vitorugo, prova la botta Vitorugo direttamente nelle mani di Soso Vitorugo, carica per Salomao e continua questa fitta ragnatela di passaggi Ci prova Sceleschi, pallone che rimane lì Va a tirare in porta ma Soso a quel momento era rientrato Rivediamo, attenzione, Tatonetti, grande parata Sceleschi, sì, attenzione, Osvaldo recupera il pallone, Osvaldo Incredibile errore di Osvaldo E avanza Soso, deve posizionarsi bene il Catanzaro Il tiro, Tatonetti 7.37, Vitorugo, prova il tiro E Mucari a porta libera, sbaglia Osvaldo Osvaldo, prova il tiro Osvaldo il palo Ancora Osvaldo, la deviazione, la porta è vuota Iozzino, Murato Murato Claudio Iozzino, occhio alla contropiede Sceleschi, il tiro e la parata di Tatonetti Attenzione, avanza, il pallone rimane lì E il muro Attenzione, riparte Vitorugo, Vitorugo, Vitorugo Al centro, Iozzino, Iozzino, la parata Di Soso Strepitoso Soso Salomau Iozzino Prova l'uno contro uno, Iozzino Serve Vitorugo Vitorugo per Iozzino Vitorugo Pallone al lato Attenzione, Vitorugo, recupera il pallone Vitorugo, numero Vitorugo, il tiro Alto Partiti, partiti per il secondo tempo di Catanzaro Calcio a 5 Augusta Recupera il pallone, Vitorugo Osvaldo, Osvaldo per Salomau Salomau Grande parata di Soso Adesso occasionissima con Salomau che va al tiro Attenzione, il numero di Diogo Diogo crea la superiorità Diogo il tiro Murato da Vitorugo Attenzione Ammonito Vitorugo Calcio di rigore forse Calcio di rigore per l'Augusta La battuta di Diogo Il gol Il vantaggio dell'Augusta con Diogo Non deve perdere la testa il Catanzaro Vitorugo, Vitorugo, numero di Vitorugo per Osvaldo Osvaldo, numero, ancora Osvaldo Pallone deviato sulla linea Attenzione però intanto seguiamo questa azione Tatonetti, strepitoso intanto Calabrese Calabrese, fermato Calabrese Da Creaco Se ne va Creaco Il numero di Creaco E non passa Con super Tatonetti Che frena il contropiede Bucari Incredibile In posizione avanzata Grandissimo Calabrese Prividi Attenzione Il tiro Il gol Il raddoppio dell'Augusta Con Celeschi Per il Catanzaro è stata una mazzata importante questa Salomao Numero di Salomao Per Iozzino Pallone all'ato Si vede qui tutte le inesperienze di Mucari E qui Tatonetti Strepitoso Disinnesca questa manovra Poi Mucari Sbaglia ancora una volta Contropiede La traversa E il pallone che rientra in campo Osvaldo Iozzino Per Vitorugo Vitorugo Calabrese Il gol del Catanzaro Con Matteo Calabrese Accorcia le distanze Il Catanzaro Con Matteo Calabrese Calabrese Il pallone rimane per Iozzino 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 Il pareggio del Catanzaro Con Claudio Iozzino Il pareggio del Catanzaro Con Claudio Iozzino Calabrese Per Vitorugo Al centro Pallone che rimane lì Incredibile Occasione per il Catanzaro Iozzino Attenzione perché da quella parte era sguarnita La difesa dell'Augusta Osvaldo sulla linea Salomeo Pallone lì Attenzione Soso E no Attenzione Vediamo un po' Incredibile Il fallo Chiamato A Claudio Iozzino E sarà tiro libero Per l'Augusta Traversa Gol Salomeo Trova Vitorugo Attenzione Vitorugo Vitorugo Per Calabrese Pallone alto Potrebbe esserci un'ultima possibilità Per il Catanzaro Vitorugo Al centro Iozzino Spara alto Può attaccare il Catanzaro Calabrese Calabrese Può sfruttare ora questa occasione Vitorugo Vitorugo Pallone che rimane lì Calabrese Di tacco Vitorugo Per Iozzino Osvaldo Osvaldo Per Calabrese Il miracolo di Soso Ed è finita qui È finita qui Il miracolo di Soso E l'Augusta Vince a Catanzaro